quindi si capisce che siamo in montagna forse dall'abbigliamento forse dal panorama posteriore facciamo una monitoranza capito che siamo sulla cima dell'etna ma sulla cima e che era ma non siamo sulla cima siamo nella parte lì che non riesco a inquadrare perché il riflesso si, si, mettiamoci tutto qui che la faccio con l'acqua quella cos'è la Cirearte? la C castello? quella dovrebbe essere Catania ma non so se si riesce a vedere perché c'è una foschia bruttina certo non si vede una mazza perché si incontro luce spietadissima c'è questo panorama fantastico ci mettiamo qua si ci piace è un po' scivoloso forse è un po' pericoloso si scillica saluti a tutti da Lettanica nooo non ci siamo siamo scesi dentro il trapere si riuscirà a capire si è che si capisce viene bello stare dentro il trapere nel termine deve fare beh pericolosi certo pericolosi pericolosi tutti i giorni i giorni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.